200 titoli suddivisi per lingue e paesi per promuovere la letteratura e l'arte del fumetto tra i giovani saranno gli spazi della Fondazione Quartieri Spagnole a Napoli ad accogliere la prima biblioteca internazionale del fumetto realizzata grazie alla donazione dell'Accademia Dosselmaier. Consultabili le ultime novità italiane, francesi, lingua inglese e spagnola, i classici coreani, giapponesi e taiwanesi, la biblioteca offrirà ai ragazzi in primis la possibilità di accedere ad un vasto patrimonio di fumetti di generi e provenienze diverse e spesso non reperibili facilmente nei negozi. Questo permetterà di scoprire nuovi autori, approfondire generi già amati e ampliare la propria conoscenza del mondo del fumetto. L'obiettivo principale, ha spiegato Rachele Furfaro, presidente di Focus Fondazione Quartieri Spagnoli, è quello di fornire ai ragazzi un'opportunità unica di scoprire e apprezzare il mondo dei fumetti. Ascoltiamo i nostri microfoni, Grazia Gotti, presidente dell'Accademia Dosselmaier di Bologna. Questi ragazzi, oltre ad abituarsi a leggere, a sfogliare, a leggere le vignette, cos'hanno? Un'educazione visiva che non è uguale. Riconoscono gli stili, vedono i grandi artisti, riconoscono anche le lingue perché si impara così. Io ci ho messo un sacco di tempo a capire la differenza tra un sinogramma, come scrive l'alfabeto Angul dei coreani, o se è giapponese. Un bambino, se gli dici questo è cinese, questo è giapponese, questo è coreano, lo capisce immediatamente. Insomma, facilitare.